La gestione dei casi covid a scuola è diventata come il Tetris, quel gioco il cui obiettivo è l'incastro perfetto. Nessuno vorrebbe trovarsi nei panni di un dirigente scolastico o di un docente referente covid. Anche chi ha sempre sostenuto le lezioni in presenza comincia a nutrire serie perplessità sul rientro in classe con l'escalation di contagi che non accenna a stabilizzarsi. La DAD non è scuola. Ma nemmeno la discontinuità che scaturisce dall'incertezza dei contagi lo è. Con professori che potrebbero ammalarsi e mancare, studenti che potrebbero mandare intere classi o parte in didattica a distanza e insegnanti costretti a gestire contemporaneamente, alunni in presenza e in remoto. Ideologicamente cercare di preservare le lezioni in presenza è sacrosanto ma un'ipotesi DAD per almeno due settimane sembra convincere e molto il mondo della scuola. E poi il Tetris si complica. Alle medie superiori va in presenza con un caso di positività. Obbligo di autosorveglianza FFP2. Dal secondo caso di positività ci si differenzia in base al ciclo vaccinale. Gli studenti non vaccinati o vaccinati da più di 120 giorni vanno in DAD. Qui la situazione si complica perché ci sono studenti nella fascia d'età 12-15 anni vaccinati da più di 4 mesi che pur volendo non possono fare la booster. Nonostante una circolare del Ministero della Salute abbia aperto anche a loro la possibilità della terza dose. Ad oggi in Sicilia non si hanno notizie di quando toccherà. Tra i tanti post e appelli dei dirigenti scolastici, quello della preside modicana Carmela Paolino sintetizza il sentimento comune. Ciò che mi preoccupa, scrive la dirigente, è la situazione di caos organizzativo nella gestione del personale qualora le assenze fossero esorbitanti. Spero che il rientro in presenza non comporti l'immane lavoro di segnalazione e tracciamento che ci ha distolto dalle attività scolastiche e amministrative. Spero che chi ha preso la decisione abbia valutato le difficoltà se la pandemia esploderà. Che ci dicano con chiarezza se c'è rischio o se questa volta si tratta di una semplice influenza stagionale. E pandemia si va in DAD e influenza restano a casa solo i malati. Ora l'improvvisazione è rischiosa, molto rischiosa.